Nel terzo tempo della riforma della pubblica amministrazione, i Cug, Comitati Unici di Garanzia, giocano un ruolo fondamentale come sentinelle dell'attuazione delle nuove norme all'interno degli enti pubblici. Lo ha detto la Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, intervenendo al convegno che nella giornata inaugurale del 28esimo Forum PA ha riunito le rappresentanti dei Cug al nuovo Convention Center La Nuvola di Roma. La Ministra si è soffermata anche sul tema dello smart working o lavoro agile, la modalità flessibile d'impiego che consente di eseguire una parte del lavoro in un luogo diverso dall'ufficio. Io credo davvero che il lavoro agile sia un cambiamento culturale ancora più forte della sola ragione e del solo obiettivo della conciliazione. Lavoro agile significa credere nella innovazione, in un'innovazione dell'organizzazione del lavoro che mette al centro la tecnologia, che ne riconosce le potenzialità e che può cambiare l'amministrazione fidandosi del valore che c'è dentro l'amministrazione. Di qui la decisione di varare una nuova direttiva che prevede la sperimentazione di forme di smart working con il coinvolgimento, su base volontaria, di almeno il 10% dei dipendenti della PA. Io sono convinta che questa scommessa è una scommessa che vinciamo e cioè che forme flessibili migliorano poi, in ultima istanza, il servizio al cittadino. La prima sessione dei lavori ha ospitato anche gli interventi di Antonella Ninci, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'INAIL e componente del Comitato di Coordinamento del Forum dei Cug, Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di parità, Monica Parrella, dirigente generale del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Laura Calafà, ordinaria di diritto del lavoro ed esperta di diritto antidiscriminatorio e tematiche di conciliazione dell'Università di Verona. La presidente del Cug dell'INAIL, in particolare, si è soffermata sull'esperienza virtuosa del forum creato nel 2015, che oggi riunisce i comitati unici di garanzia di oltre 120 amministrazioni ed enti centrali, nazionali e locali, che rappresentano circa 700.000 lavoratori pubblici. Secondo Ninci, nella fase attuale di rinnovo e rilancio della PIA, i Cug possono essere attori del cambiamento, svolgendo una funzione importante per la valorizzazione delle diversità, la promozione di azioni positive e l'introduzione di strumenti di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Bisogna cominciare a parlare di lavoro per obiettivi e non di lavoro soltanto per presenza fisica nell'ambito dell'amministrazione. I comitati unici possono essere di grande ausilio in questo cambiamento, ma occorre creare le situazioni per il cambiamento, anche dar fiducia ai comitati e farlo quando adesso. Ora non abbiamo più modo e tempo di rinviare e le amministrazioni devono cominciare ad utilizzare questa risorsa che hanno al loro interno. Nella seconda parte, moderata da Giovanni Paura, direttore centrale pianificazione e comunicazione dell'INAI, il convegno ha ospitato una tavola rotonda dedicata al ruolo dei Cug per equità ed etica, binomio indispensabile per l'innovazione e il cambiamento della PIA. Prima di avviare la discussione, Paura ha ricordato il tragico bilancio dell'attentato di Manchester dello scorso 22 maggio e tutte le vittime delle stragi mafiose di Capaci e Via D'Amelio di 25 anni fa. Attraverso i contributi di Rossella Orlandi, direttrice generale dell'Agenzia delle Entrate, Tiziano Treu, presidente del CNEL, Raffaele Squitieri, presidente emerito della Corte dei Conti, e Daniela Carla, dirigente generale del Ministero del Lavoro e direttrice della rivista Nuova Etica Pubblica, nella tavola rotonda sono state approfondite alcune delle suggestioni emerse nella prima sessione, allargando la riflessione anche alle modalità di contrasto dei comportamenti scorretti e dei fenomeni corruttivi. Grazie a tutti.